L'effetto di tornare e di non solo vedere la gente che abbiamo avuto su internet, però anche di toccarli rispettando tutte le regole di Covid, ci rendiamo conto come l'elemento umano è essenziale nel quello che facciamo. Al momento quando in Europa comincia a nascere l'industria audiovisiva europea, perché fino ad adesso era un sistema molto artigianale che abbiamo, e siamo credo all'inizio di un cambio organizzativo delle strutture produttive, eccetera, eccetera, la creatività è elemento essenziale. e di sostenere la creatività, di portarla, di fare capire la sua importanza, un evento come mia sostiene questo. La seconda cosa è che crea l'occasione per incontri.